ferma dritta su raga sono Valentina Lattanzio e oggi in compagnia di kitty faremo i 100 strati di lacca oh santo cielo questo scherzo se lo sto fatta da sola raga non ci credo lo devo far più avanti ma è facile aspetta dai sei pronta? più o meno ce la possiamo fare ok raga ci posizioniamo quindi oggi Valentina si trasformerà in un punk vero e proprio solo che avrà la crescita da pavone dimmi tu come mi sono ok devi stare bella indietro con la testa brava ma che bello io i capelli non li pittineremo perchè sennò sono sottili sono finissimi raga fin troppo fini che roba strada ok quindi faremo 100 strati di lacca ok lacca super forte e phon a manetta siiii su raga kitty mi sta mettendo il primo strato di lacca saluta amore secondo strato terzo strato ok ora aspettiamo un attimino che bello amore rilassante cos'è non lo sente? ti voglio vedere dopo a lavare i capelli nooo infatti sarai tu ad aiutarmi vero amore vero? si come no nooo ok vale per ora abbiamo fatto 6 strati di lacca ci sei adesso passiamo il phon e siamo solo all'inizio raga siamo solo all'inizio dobbiamo arrivare a 100 oh mamma mia povera me non vedo l'ora di vedere il risultato si anch'io sembrerai veramente un pavore altro che punk mi sento i capelli rigidissimi che strano che strano bellissimo ma lo sai che alla fine sarà un casino per staccarli tutti lo so già prima abbiamo provato a staccarli un pochino ma me li ha chiederti tantissimo che ridere dopo per farti lo shove nooo girati come una cotonetta uno nooo aspetta che lui si è in cura esatto inizia a girare il corpo e voilà raga ciao sono qui che cosa è siamo arrivati a 100 strati di lacca abbiamo cambiato posizione così andrò a rinforzare questa parte ma quali 100 strati siamo solo a 20 vale oh nooo ancora più lungo del previsto poi ho anche cambiato posizione perchè mi fa malissimo questa parte dietro perchè dopo un po' a stare immobile così e poi perchè dobbiamo rinforzare tutta la parte dietro di lacca esatto ok partiamo vale di dietro sono ancora belli morbidi ok partiamo 35 adesso ci riproviamo a girare di nuovo così facciamo di nuovo la parte superiore ok sei pronta a girarti? si aspetta mi fa male tutto le gambe vai io ci sono ok raga mi fa male tutto non ho bisogno di capire ahhh no raga ok scusate che mi devo posizionare bene perchè stommare vale appoggiati dai appoggiati no qui dimmi come così perfetto ok raga ce l'ho fatta girarmi ok raga sei un po' più giù così si ok siamo a 41 strati di lacca ragazzi quasi a metà sono stanchissima vai come non che non non che non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.